T-Rex 600 pilota Tommy T-Rex 600 pilota T-Rex 600 pilota T-Rex 600 pilota come sta davanti si mettono il trale, non è in giù si è messo un po' lento, no? ma non dobbiamo andare a fare cosa vuole arrivare? non lo so se non devi tenere più alto non lo so non lo so non lo so mi dispiacerebbe come basti da te che fa veramente d'incanto è un muro adesso non lo so 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 T-rex 500 3D T-rex 500 3D Ah, già devo stare così T-rex 500 3D T-rex 500 4D T-rex 500 4D T-rex 500 4D questo viaggia però è un'altra cosa c'è un vento è 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 un vento vuole riprovare il 3D con il 600 è un vento 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 è un vento